Faccio questo video struccata, sì completamente struccata perché oggi è un giorno speciale, diciamo speciale a livello di ricorrenza l'8 marzo, ma per me questa data significa tanto per tante donne, ma anche poco perché comunque dovrebbe essere sempre l'8 marzo, premesso questo. Però voglio comunicare con voi quello che mi piace proprio e che io scopro ogni giorno con il mio lavoro su questo mondo fantastico che è un mondo femminile prettamente, maggior parte femminile, prettamente femminile. Che cosa mi colpisce a me delle donne, che cosa io capisco di questo mondo fantastico che è quello delle donne. Ammiro lo stupore delle donne, ammiro la resilienza delle donne, la capacità di modellarsi, di adattarsi alle situazioni della vita, alle storie che ci toccano nella vita. Mi piace il sorriso delle donne perché il sorriso delle donne è un sorriso spontaneo, dolce, vero. Mi piace il silenzio delle donne perché tante donne parlano con il silenzio. Mi piace la forza delle donne, la forza, la capacità proprio di mettersi sempre in gioco, di affrontare le situazioni della vita. Mi piace la tenerezza delle donne perché le donne sanno essere tenere come madri, come mogli, come compagne, come qualsiasi tipo di situazione ci si presenti. Mi piace la spontaneità delle donne, proprio la capacità di essere se stesse sempre. Mi piace proprio anche per questo la genuinità, la sincerità, la determinazione. La determinazione delle donne è una forza incredibile, incredibile. Io incontro un sacco di donne nel mio lavoro molto determinate, molto determinate in ogni ambito della loro vita, che combattono delle lotte incredibili negli ambiti lavorativi, familiari. Mi piace l'autenticità delle donne perché tra noi l'autenticità è fondamentale. mi piace la timidezza, è tenera la timidezza. Mi piace la fedeltà. Noi donne sappiamo essere fedeli sempre quando incontriamo qualcosa che ci rende motivati ad esserlo. Noi donne siamo questo e molto, molto di più. Noi donne siamo una forza della natura. Questa forza la possiamo trovare nelle scelte che facciamo, nelle scelte che a volte non è facile farle, però siamo una forza incredibile. Siamo tutto questo e anche molto di più, ma molto di più. E quindi noi, mi viene da dire viva le donne sempre, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma dietro una grande donna non c'è mai nessuno. Ragazze, viva le donne, la nostra forza, la nostra determinazione, il nostro coraggio.